Una rivelazione scioccante quella rilasciata da Mena Suvari, l'attrice di American Beauty che ha raccontato la sua infanzia difficile anche nel suo libro. Una storia che purtroppo ha già diversi precedenti e che però continua a sconvolgere il mondo intero ogni volta che viene raccontata. L'attrice americana, diventata famosa grazie al film American Beauty uscito diversi anni fa, ha svelato un suo passato difficile ed il racconto ha commosso tutti i fan. In tanti la ricordano ancora immersa in una vasca da bagno e coperta da bellissime e profumate rose rosse. L'attrice ha superato i 40 anni ma è famosa da oltre la metà grazie al film che spopolò in tutto il mondo. Mena interpreta una tentatrice che riesce a catturare sempre l'attenzione degli uomini ed in particolare quella di Lester, uomo di mezza età ormai insoddisfatto del suo rapporto con la moglie. Dunque, nel film l'attrice veste i panni di una fan fatale in grado di far impazzire e sognare chiunque ma nella vita non è stato proprio così. La modella statunitense ha infatti vissuto un'infanzia difficile e ricorda ancora con tanta sofferenza, quel giorno in cui una parte di lei morì. Una storia da brividi che nessuno poteva immaginare. L'attrice di American Beauty è stata vittima più volte di abusi sessuali e gli eventi hanno rovinato la sua famiglia e gli equilibri di tutti. Il primo tragico abuso risale a quando Mena aveva soltanto 12 anni e fu violentata da un amico di famiglia. A 15 anni, la giovane si trasferisce a Hollywood per studiare recitazione, la sua più grande passione ma fu vittima del suo stesso manager che voleva soltanto abusare di lei. Da quel momento la famiglia della Suvari collassò. Entrambi i genitori non riuscirono a riprendersi facilmente dai tragici eventi e la vita dell'attrice diventò un mix di droga e disperazione. Oggi l'attrice è riuscita a ritrovare la pace interiore grazie a suo marito e dal suo primo meraviglioso figlio. Il suo libro in uscita negli Stati Uniti, The Great Peace, racconta tutta la sua storia difficile ma anche di successo. Il suo libro in uscita a ritrovare la sua storia. Il suo libro in uscita a ritrovare la sua storia.